In questo video impareremo a posizionare una canala Ci avviciniamo sulla pianta di nostro interesse Premiamo il pulsante canalizzazione Clicchiamo come viene indicato sotto l'armadio dati da cui far partire la canala Scegliamo l'altezza della canala, premiamo quindi un invio E scegliamo poi i punti di tracciamento della nostra canala Abbiamo le varie funzioni del CAD Quindi abbiamo l'ortogonale, se vogliamo, e le snap da attivare a necessità Digitiamo i punti Fino a formare il percorso desiderato Bene, se vogliamo proseguire con un'altra canala possiamo farlo tranquillamente Sempre canalizzazione Scegliamo sempre l'armadio da cui partire L'altezza Attiviamo gli snap per agganciarci ai punti precedenti E possiamo disegnare il resto della nostra canala Invio per terminare il disegno di questa canala Potremmo posizionare poi nello stesso modo le canale nei vari piani Grazie a tutti Grazie a tutti